Però ti dico, con la particolarità di farti correre di avampiede senza forzarti troppo quindi ti fanno correre davvero naturale, ti fanno anche spingere quindi se sei in giornata e hai voglia di spingere, voglia di tirare potresti trasformare il lento praticamente in un fartlek o in qualche progressivo senza assolutissimamente problemi. Mentre qua sta iniziando a piovere Strava mi ricorda l'ho guardato qualche minuto fa che tra pochi giorni arriverò a 60.000, avete capito bene 60.000 chilometri e analizzando questa scarpa Topo Cyclone di Topo Athletics ho capito che secondo me assomiglia a qualcosa di familiare non soltanto alle Zephyr che avevamo recensito l'anno scorso ma anche e soprattutto ad una scarpa molto più famosa, molto più pubblicizzata di un marchio americano davvero molto grande marchio che utilizza i propri muscoli finanziari per effettuare delle campagne pubblicitarie a 360 gradi di marketing questa scarpa, le Topo Cyclone, secondo me sono davvero molto simili alle Pegasus Turbo 2 oggi però le caratteristiche tecniche delle scarpe Cyclone non ve le racconto anche perché ho già fatto un video a proposito, ve lo alleggo qua sopra sappiate che parleremo dopo aver effettuato circa 200 chilometri a testa di quali sono le caratteristiche di questa scarpa l'unica cosa che faccio però è elogiarvi l'importanza della flessibilità in una scarpa come vedete questa Topo Cyclone si flette completamente nel mesopiede sappiate che il mio consiglio è quello di utilizzare una scarpa rigida per le gare ma per migliorare la vostra biomeccanica di corsa per migliorare il vostro modo di correre vi suggerisco davvero di provare una scarpa di questo tipo tra l'altro Drop 5 con una ampiezza molto importante nell'avampiede questo è uno dei modi per correre molto meglio poi in gara con scarpe più rigide riuscirete anche a fare il vostro personal best come dicevo questa scarpa è davvero molto leggera vi allego le specifiche tecniche qua sopra dal punto di vista tecnico secondo me è una scarpa altrettanto flessibile e leggera così come lo erano le Pegasus Turbo 2 sappiate che la combinazione suola-intersuola rende questa scarpa davvero eccellente per una transizione efficace in corsa la consiglio sicuramente a chi vuole migliorare la propria biomeccanica di corsa per chi ha già una biomeccanica di corsa abbastanza ottimale sappiate che questa scarpa ha anche un rapporto tra ammortizzazione e peso davvero ottimale cosa che vi consente sempre che abbiate una biomeccanica ottimale di correre pure le lunghe distanze resto convinto che l'unico problema tra virgolette di questa scarpa è il fatto che la tomaia sia abbastanza leggera e il fatto che la scarpa sia comunque molto flessibile vi potrebbe portare a rompere la tomaia stessa cosa che è successa ovviamente sul Pegasus Turbo 2 scarpa che comunque era di 180 euro magari però questa cosa non succederà con queste scarpe dopo 200 km ovviamente la scarpa si è dimostrata ancora molto solida lascio però la parola ad Andrea che vi racconta il comportamento nella corsa quali sono i suoi pregi e difetti e soprattutto a chi è raccomandata tra l'altro se la volete provare ci sono come al solito dei codici sconto qua sotto nessun impegno ovviamente ci sono tantissime scarpe nei 60.000 km sarei curioso di sapere quante secondo voi scarpe ho provato nella mia vita di podista amatore io vado a bermi un coffee vi suggerisco di gareggiare con scarpe rigide ma di allenarvi con scarpe flessibili questa sicuramente è una grandissima opzione nel frattempo stay strong, kick running e ci vediamo alla prossima Andrea ci hanno chiesto comunque dopo il primo test e video sulle Topo Cyclone di raccontare cosa ne pensi e dopo circa 200 km tu non hai fatti 200 io ne ho fatti 100 e qualcosa cosa ne dici di questa scarpa? intanto ho imparato il nome, io li chiamavo le ciclone quindi molto italianizzato devo dire che sono stato contento, devo dire che sono stato contento di averlo usato e sono contento di fare il secondo video perché ci eravamo lasciati con qualche dubbio e invece ti dico, ma forse credo che sì, i primi due o tre giorni che le ho usate le ho usate con un po' di paura alternandole perché non mi davano quella grande stabilità per colpa del tallone e invece dopo la terza o quarta uscita è diventata la scarpa che dicevo voglio usare oggi, sono contento di usarla nella sua particolarità mi ha comunque ricordato tanto la Magnifly che era una scarpa di cui mi ero innamorato l'anno scorso poi ti racconterò un aneddoto per cui le utilizzi in questo periodo raccontacelo subito raccontacelo subito già le Magnifly ai tempi le stavo utilizzando quando le utilizzavo mi davano l'idea che mi cambiassero la corsa e me la facessero fare più di avampiede ci sono gli integralisti che dicono che correte di avampiede di qua di là e non sono perfettamente d'accordo però devo dire che sentivo che la scarpa mi aiutava a correre di avampiede e poi quando sono andato a fare le corse in pista che utilizzavo le Vapor Next che si potevano ancora utilizzare sentivo proprio che dopo spingevo di avampiede e davo il merito alle Magnifly Magnifly praticamente disintegrate adesso sto utilizzando queste che me le ricordano molto le sto usando un po' come talismano per ricorrere di avampiede durante le corse lente e poi riportarlo durante gli allenamenti e spero durante le gare tra l'altro la novità a parte il coniglio che mi sta disturbando siccome sappiamo che ti abbiamo un po' mangiato la scarpa per coppare il coniglio ce ne è arrivato un secondo paio il secondo paio sì quindi per un po' potrei potrei testarle farò tutta la stagione estiva ad utilizzare quelle come talismano secondo te a chi sono adatte queste scarpe? mi fa una bella domanda sicuramente per persone leggere sono una A3 ma sopra i 75 kg assolutamente no le utilizzerei per corse per chi corre di tallone e fa la rullata completa le utilizzerei per delle corse da 30-40 minuti per non affaticarsi troppo invece sono delle scarpe secondo me da atleta evoluto diciamo da amatore che fa sette corse alla settimana per cambiare un po' l'impostazione di corse e imparare a correre un po' più gli avampiede perché secondo me aiutano davvero ad avere una buona impostazione di corsa e a livello di ritmi per quali ritmi li utilizzaresti? non li ho usati sui ritmi forsennati ho fatto degli allunghi non mi ricordo se ho fatto anche qualche mezzo lavoretto però ti dico con la particolarità di farti correre di avampiede senza forzarti troppo quindi ti fanno correre davvero naturale ti fanno anche spingere quindi se sei in giornata e hai voglia di spingere e voglia di tirare potresti trasformare lento praticamente in un fartlec o in qualche progressivo senza assolutissimamente problemi è una scarpa che comunque è ammortizzata secca ma ammortizzata perché comunque la gomma che c'è non ti dà problemi a fine corsa le prime volte un pochino di dolorini ce li hai perché se non sei abituato a correre di avampiede potrebbe affaticarti un po' il polpaccio però in generale è ammortizzata e invece per quale distanze le utilizzeresti? su quello consiglio di non esagerare quindi farei i lenti di tutte le giornate li farei con questi farei dei lunghi maratona se sono strutturati quindi se sono dei lavori con dentro ripetute lunghe allora le sfrutterei perché comunque tra virgolette è scarpa da lento ma con cui posso correrci forte quindi secondo me su 6 volte 5.000 recupero o 1.000 secondo me si sposano benissimo come scarpa invece una delle domande che ci sono state poste la durata sappiamo che comunque abbiamo raccontato che sono scarpe tra virgolette relativamente fragili cosa ne dici? sì l'abbiamo detto però le mie sono durate ancora abbastanza senza segni di cedimento queste sono le tue quindi avevamo detto che in effetti sarebbero durate poco invece ci stanno sono sorprendentemente durevoli sì 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 infatti noi pensavamo che cedesse qua all'interno invece forse la soletta che ci tocca sopra è lei che protegge la tua maglia quindi al contrario delle zephyr che mi si erano praticamente bucate lì dopo 180 km, 200 km loro davvero non hanno nessun segno di cedimento quindi magari adesso finiamo il video le uso oggi pomeriggio e si sfondano ma non credo credo che dureranno ancora almeno 600-700 km tutti facile invece a livello di battistrada cosa ne dice? il battistrada mi sembra che si stia un po' consumando come quello che avevo sulle magnifla infatti è molto simile è molto simile anche quello delle zephyr ma stranamente la parte bianca anche quella dell'intersuola non si consuma pochissimo quasi meno del battistrada credo che quindi abbiano messo la gomma quella un po' più dura proprio negli esatti punti dove appoggi infatti anche qua nell'avampiede c'è dell'intersuola bianca che praticamente rimane in tonza e invece viene consumata bene dove c'è il battistrada quindi qua un plauso a chi ha progettato la scarpa non è una scarpa secondo me da correrci sulla pista bianca o meglio sulla pista bianca ci fai i lenti tranquillamente per fare i lavori invece predelige la pista o l'asfalto e invece a livello di intersuola cosa ne dice? è morbida, ammortizzata? come la valuti? allora l'intersuola è un po' duretta un po' più duretta dalla magnifla sicuramente non è così morbida assomiglia di più alla Zephyr per dire anche se è più morbida della Zephyr quindi è una via di mezzo tra le due però guarda ti dico dopo durante la corsa sicuramente arrivi a casa che il piede non è stanco quindi comunque la sua parte di ammortizzazione e di riposo la fa a livello di stabilità cosa ne dici? guarda ti dico fa ridere perché la scarpa praticamente non ha la parte del tallone in avampiede è larghissima perché vabbè casa Toppo fa tutto l'avampiede stralargo però avendo il piede bello fissato sul collo la scarpa segue quello che vuole fare il piede incurvano nei problemi quindi direi che è molto stabile sarebbe curioso fargliela provare a un pronatore però anche lì c'è una para abbastanza alta poi comunque essendo una scarpa da usare con l'avampiede potrebbe sopperire anche questo problema però non lo so io così su due piedi non so se la consiglierei a un pronatore e invece secondo te quali sono i punti di forza e debolezza di questa scarpa? il punto di forza è che ti fa cambiare l'impostazione di corso ti fa correre di avampiede quindi se vuoi ci puoi correre forte è una scarpa che ti insegna a correre esatto bravo me lo dicevi tu nelle Mani Fly secondo me anche questa è molto molto simile sì sì sono d'accordissimo con me stesso anche un altro punto di forza stranamente questo tallone che è inesistente per chi ha problemi di tendiniti potrebbe essere per assurdo anche se è inesistente proprio non vi fa graffattare il tendine contro quindi non ve lo fa infiammare di più dicevo stranamente perché di solito le scarpe con poca conchiglia dietro erano instabili invece io non le ho trovate per niente instabili quindi potrebbe portarvi solamente delle migliorie da non far sfregare il tallone contro ovvio da valutare un attimino perché correndo di avampiede vi sposto in pieno avanti quindi affatica un po' di più il polpaccio se posso dire il punto di debolezza che non è una scarpa per tutti perché abbiamo detto che chi pesa un po' di più io la sconsiglierei e soprattutto per le corse lunghe e lente non la consiglierei perché affatica davvero un po' tanto rispetto a una scarpa classica parlando di scarpe simili quali scarpe hai in mente? tolte le magnifly potrei dire simile un po' alla rincon perché comunque anche la rincon era una scarpa che ti faceva correre di avampiede che ti spingeva in avanti quindi l'idea è quella della rincon per dire per chi l'ha provata sicuramente meno ammortizzata più vicina al terreno va bene grazie a Andrea speriamo di testare nuove scarpe top se dovessero uscire quest'anno al coniglio piacciono tanto ci vediamo alla prossima a presto ciao alla prossima ciao Max ciao a tutti via sistemiamo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.